Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del mercoledì dedicato al Range Simulator. Oggi andremo a continuare il lavoro iniziato la settimana scorsa offline o ho apportato un po' di modifiche e quindi andremo a vedere di cosa si tratta. Hi everyone, welcome to the stream, welcome to our rendezvous of Thursday on Range Simulator. Today, we will go on with the range. During this week, I made a lot of modification on the map. We will try to build a stable and making and trying to earning money. So, ready? Let's go. Andiamo. Ok. Stable. Io stavo iniziando a costruire la stalla. Ne ho costruite due vicine in modo tale da poter usufruire del granaio e quindi poter risparmiare un po' di tempo. E quindi poter risparmiare un po' di tempo. Perfetto. allora controlliamo un attimo ok procediamo andiamo avanti allora controlliamo un attimo ok quindi offline ho costruito una parte della stalla questa parte qui e il serbatoio per il grano quindi off-line ho costruito questa struttura qui e il reservo qui, il grano il grano, il grano, il grano e il grano we have a lot of things to do and like a trio and see if we can earn a million dollars and we will try to earn one million dollars it's very hard but we must try it's very difficult to earn a million dollars we must try and say yes if it is let's go and say Grazie a tutti 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 It's the most famous Neapolitan song On sole mio Indua Ero big time are dance Vorrei comprare Visto che al momento è piuttosto difficile trasportare le mucche molto probabilmente acquisterò due maiali due maialos My intention is to buy the course I have not the course but I have not the right way to transport them I should buy a car or truck but in this moment I have not enough money so I will buy a couple of pink pinks and I'll try to earn a little bit of money and I'll try to earn a little bit of money and maybe I'll buy... sorry I will build a chicken cup and maybe I will buy... sorry I will build a chicken cup è un problema perché occorre il mezzo di trasporto adatto che sia il camion o il pick up al momento dato che le finanze non lo mi permettano acquisterò una coppia di maialozzi maialoschi andremo a vedere un po i maialoschi come si dice Napoli e portolo, 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 as we say in Neapolitan we say pink we let's see forbtolo, as we say puhcluci, finish. Yes. Perfect. I will finish, try to finish before to be able this tractor then I will be sorry I will build other things porto trail road oh mi ero distratto i was so distracted i was thinking what to do after you may say i'm a dreamer but i'm not the only one i hope someday you will join us and you will and you will and you will one teckotargum tecota com tecota Maiawski, Iwurcz Lutsch. non trovo 3 dovrei farcela ma mi dubbi i should complete the job but i'm not so sure con questo let me something get it on iscriviti no iscriviti no iscriviti no iscriviti no iscriviti no let me see not here i will not cut trees here at the moment let me check should be enough no worry a battere tanti alberi vorrei usare giusto quelli che mi servono I don't want to beat all the trees I prefer cut in the measure the measure I need patrini and the other one patrick chiam patrick chiam Ben, ben, ben Aiaiai, ho finito la benzina Ben, 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 ben. Ben, ben, ben. Pa-da-pum 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 andrea di fornire il carburante la siga quindi io sarei completato facendo la barra di wood quindi ora prenderò gasolina benzina mi lascio mi lascio mi lascio controllo ai rodi da merdians scendamats scendamats aerobili da merdians puru puru pururu puru 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 Qua qui devo costruire anche i recipienti per il cibo, so we have to buy. Come si chiama, abbeveratoio. Come si ha? And now let's go to the gas station. Let's go to the gas station for fueling the car or this kind of car and the tank. The tank. Thank you so much for the follow. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Good evening, good evening. Thank you very much. Thank you very much. It's an honor. Lo sai. Quando passate nel canalozzo qua. Hai preso le ferie allora? Fatto bene. Ogni tanto bisogna staccare. Io lunedì ho fatto una diretta qua e diciamo che questa settimana qua sarà ben otto. perché è uscito l'aggiornamento di range e quindi ho fatto una live. Sì, ho letto e ho sentito di questa cosa qui. Infatti per quell'ora lì sicuramente starò bello buono buono. insomma a vedere un po' le novità, cercare di capire un po' la novità. Speriamo che abbiano apportato apportate modifiche insomma significative. Insomma che l'abbiano reso ulteriormente un bel gioco. perché Farming è un gioco veramente incredibile dalle grandi potenzialità. E bisogna vedere un po' le novità. Non tanto dal trailer ma dalle immagini del gioco sperando che le facciano vedere. Allora qui poca carpiterina. Andiamo a andare a comprare il mancino qua. Andiamo subito all'emborio. Non siamai ci crepa sta gallinella qua. Le poche entrate che abbiamo è la gallinella. Ah, ottimo. Questa è un'ottima notizia. Speriamo. Perché Farming veramente con il 19 ha spaccato. non è arrivata ai livelli di Eurotrack come votazione del gioco però mi garba. anzi mi garba. Com'è che si digita le due parti? Ok, vai piano piano mi raccomando guidare con prudenza e soprattutto spegnere il cellulare quando si guida. Ciao carissimo direttore. Buon rientro. Grazie per essere passati in live a salutarmi. Sì. Allora, ne ho un po'. Eh sì. Ma è vero sì. Ah no, io non devo comprare i maiali. Devo acquistare. Eh sì, ma infatti nella meravigliosa lingua toscana alcune parole non vengono pronunciate. Con la H però dovrebbe essere. Eh eh eh. Diciamo che quella A è un po' aspirata quindi è per questa che può sembrare più una H. mitica. Mitica Toscana. Un saluto a tutti gli amici della Toscana. Un saluto a tutti gli amici della Toscana. Allora, qui che dovevo fare? Mi sono scordato. Ok, ritorniamo in Palma Rage. Un saluto a tutti gli amici della Toscana. lo sapevo che mi sarei impigliato in mezzo a questi alberi allora andiamo subito dalla gallinella qua grazie presidente, buon rientro grazie ancora per essere passato nella live vai gallinella, beca signora cavonella, mangiate pure intanto prendo un attimo l'ovetto qua ok mi sembra tutto pulito qua perfetto almeno se dobbiamo vendere qualcosa allora io quasi quasi direi di andare a fare una cavatina al solito posto quindi ora andiamo a la rally point, rendezvous point la più grande area di hunting per il momento devo andare a hunt e poi compro i animali e poi i will produce milk, cheese, checkpoint e quindi adesso andiamo nell'area, la famosissima area dove ci sono tanti orsi da cacciare questa notizia ovviamente non è farina del mio sacco è stata suggerita da un utente, un follower del canale di miticaccio che saluta il miti e il grande miticaccio e come sempre ringrazio l'amico o l'amica che ha suggerito dove si trova l'area l'area dove si trova no l'area so 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 not by my own but i heard the new on the channel of a miticaccio was another follower of him that suggested where to hunt we must be very careful in this area because there are a lot of pairs so I have to do so 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 fanno la pellam I use this tactic for let the beers go out and catch them near my car because the car will cover my shoulder and my back so I suggest you to use this tactic e i allontano da questi punti e li faccio avvicinare all'automobile perchè poi quando dovrò raccogliere i pezzi della cacciagione avrò un punto dove avrò le spalle riparate quindi in caso di aggressione da parte di orsi riuscirò in qualche modo ad accorgermene arriverà un graffio e poi dopo il resto orsacciotte al momento questo è l'unico modo per per guadagnare un po' di recuperare un po' di spese e la caccia la caccia è l'unico modo per guadagnare un po' di guadagnare un po' di l'area è qui all'interno guardate la caccia la caccia oltre la caccia l'unico orsacciotte 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 oltre devi correre peatr oltre fast orsacciotte bisogna correre più veloce possibile per evitare di essere, eccolo lì, per evitare di essere aggrediti dagli orsi. Qui mi sa che mi serve, mi occorre un'altra borsa frigo. Avendo la ferramenta qui vicino, la vado ad acquistare. I sure need, I will need of another fridge bag, so I will buy another bag at the hardware store, that is around here, not so far from here. You have to check all this area, before leaving. And always check your back. Prima di abbandonare quest'area, ovviamente, bisogna assicurarsi che non ci sia il pericolo alle spalle, che possano sbucare altri orsi, e questa è l'area più pericolosa. Ok, so now we go, we can buy, the bag, the portable fridge. Andiamo a comprare la borsa di frigorifero qua, perché ogni orso produce quattro pezzi di carne. E quindi, siccome abbiamo... Oh, c'è ancora un altro qui. E quindi ci tocca... Oh! Ma... Mannaggia la miseria, ma che combino! Ecco... Non so perché... L'arma è stata estratta in maniera molto ritardata. I don't know... Why? The extraction... Extraction... Of the gun... Have been so slow... So complicated... So complicated... Na 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 na... Nani, frustrate... The light taking self and... Every Lavigne... e vediamo se siamo anche fortunati che ci pagano bene al ristorante I hope that the restaurant will pay us a good the best price yeah up at me love for us enough money Quante ne ho messo qua? 12? 12 ok, ho un pezzo di carne Ora andiamo al ristorante e vedremo quanto pagherà il carne La cacciagione Allora Tico, 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 tico Yuppidoo Allora, vediamo un po' Ai 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 Ok, ci paga normalmente Abbiamo recuperato un po' di soldini Noi 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 E' bene E' sempre bene Lo metto qua Chicken 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 What? Callanella Guarda, puoi andare anche qui eh Grazie Allora, callanella Allora, io qui ci metterei i maialozzi Here I would I will I would Let Wrap the pigs Oh Ok 60 600 Dollar 600 Dollar A pair of pigs But Prima Devo Riempire A pair of pigs A pair of pigs That's A pair of pigs A pairly A pair e Allora prendiamo il maialo, prendiamo questo, prendiamo un secchio, Allora, tarabatana bellish pride! Adesso iniziamo la nostra avventura con i maialozzi. Adesso l'avventura è starte. Iniziamo la nostra avventura con i maiali, e questo è un sacco. C'è un sacco di sottolato, ok neve no non c'entra vabbè facciamo ritorno maialoschi maialoschi per qualche minuto non dovrebbero avere problemi giusto il tempo di andare a prendere il seggio dell'acqua oh yes non c'entra M&S come bene come bene un vanile cantele e di un altro disco come video se iniziano i fanghi del jackson il disco di capina il disco di madonna entro piano piano e mi appoggia una colonna quante belle femmine che stanno bombando ehi ballerino come se carino sotto la luce si riflette le orecchie gialli da sole continuo a raffanirlo come balli bello come balli bello come balli bello andiamo a recuperare la tannica come dice cosa sta giusto ok so let's go bring the tank 하 and 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 secchio secchio come si dice mi sono scurtato Watertime il tempo di poter comprare le pare di acciaio e metteremo anche il mulino per la pareolica a vedere la extra relacca del terreno i must earn money for completing the construction of the building l'eolico planta il water can be extracted from the ground so eee cow eee av a questo è il vorto l'obiettivo Sì, ecco qua, perfetto, perfetto. Sì, ecco qua. Sì, ecco qua. Sì. 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 No. Sì. 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 l'audio. Meglio così. Patrizia 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 Un l'audio See Protagonia l'italiano cottage, come west, come west, come west, come west, sei la più bella del mondo, un punto più bella, meglio per me, più che male, mi piace da impazzire Un iperbole di stile scia giù dal cielo Iperbole di Raff Iperbole is the name of this song My Raff R8 Ottimo lo ha riempito Automaticamente Automaticly You Refuel The Food Refuel the Food I try to dream of you Andiamo a recuperare il metallo Let's go to bring metal stripes One year One year Vediamo se riusciamo a finire di costruire la stalla Qui come sta la galenozzo 6.5 Un iperbole di Mersi Ho Uno Tiperbole di Mersi Allora, ho bisogno di 10, 22, 22 pezzi di legno, 22 tavole, 12, 12 troche, I need, at least, Hotel allo, food logs, all the waste was was, ah, ma qua ci stanno, allora, vediamo un po', questo dog, così creiamo un po' di spazio, facciamo qua, ah, un po' di spazio, un po' di spazio, un po' di spazio, gli alberi, quelli lì più vicini, cerco di, di creare un'area più pulita, allora, uno, due, tre, quattro, cinque, tre, dovrebbe essere almeno, femenina, sagittà, questo è un po' di spazio, questo è l'escrizione, la città, so close by themselves so close to other tricks I will cut them let's make it let's look let's start so 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 Ogni blocco di queste tavole di legno, ci sono otto pezzi di legno. Ogni blocco di legno di legno, ci sono otto pezzi di legno. Vediamo un po' se riusciamo a concludere i lavori. Dovrei forse, forse... Chi-chi... ... 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 produciamo solo un luogo e provo a mantenere i bambini se è possibile ok perfetto gg grazie a tutti 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 allora grazie a tutti 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti let's clean grazie a tutti 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 finisce a tutti grazie a tutti prendere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ciao grazie a tutti 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 perfetto grazie a tutti 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 grazie a tutti